Sono state concesse ai 94 cittadini dell'area metropolitana di Bari dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in considerazione dei loro particolari meriti professionali per la direzione in campo sociale, economico e culturale le onorificenze al merito della Repubblica Italiana. La consegna di diplomi è terminata e il tutto è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid. L'onorificenza viene riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti e dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari nonché per lunghi e segnati servizi nelle carriere civili e militari. Tra gli insegnati figurano appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco nonché rappresentanti della società civile. Dicevo questo riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica per la carriera che svolgo da ormai quasi vent'anni in giro per il mondo, nei teatri di tutto il mondo. Spero di essere all'altezza di questo riconoscimento e mi auguro di portare il nome e i principi e i valori dell'Italia all'estero e far conoscere sempre di più il prestigio di questa nazione e il valore dei suoi talenti. Finalmente posso raccontare di aver ottenuto un'onorificenza che mi riempie di orgoglio, ma continuerò a fare il mio lavoro che è per me la prima cosa di primaria importanza.